Ciao a tutti, io mi chiamo Alcea Russo, 8 anni e per causa di questo brutto coronavirus siamo costretti a restare a casa. Qui siamo nella mia cabina intonorizzata e oggi vorrei suonarvi Believer perché penso che col coronavirus sia anche a tema e poi a me questa canzone mi piace. Il testo dice il mio dolore mi ha reso credente, il dolore mi ha reso credente vuol dire che se noi stiamo passando momenti difficili, momenti brutti oppure una persona che volevi tanto bene non c'è più, non è più accanto a te, non devi incolpare Dio, non devi dire perché Dio mi ha fatto questo, anzi lo devi ringraziare, devi avvicinarti più a lui, devi credere più in lui e pregare che le cose andranno meglio. Ho voluto fare questa canzone per questo e anche perché mi piace, è bellissima. Grazie a tutti. 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 Spero che il video vi sia piaciuto E spero anche che questo brutto coronavirus Se ne va Ciao